E dunque Filoteo Di Sandro, in vista della grande partita delle politiche di settembre, nemmeno scenderà in campo. Il rifiuto da parte del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia di correre sul proporzionale nasconde, ma neanche poi tanto, e capirete presto perché, la polemica per le decisioni prese a Roma, che hanno paracadutato due forestieri, Lotito e Cesa, sui collegi uninominali apparentemente blindati. Una scelta, quella adottata dai vertici nazionali dei tre partiti di centrodestra, che ha sorpreso, come più di tutti, lo stesso Di Sandro. Lui, al seggio sull'uninominale al Senato, puntava, in forza di quanto fatto negli anni per il rafforzamento del partito di Giorgia Meloni, che, in Molise, era partito dal 2%. Ce l'ho detto in una intervista di qualche giorno fa. Il riconoscimento per quel lavoro non c'è stato. Il dirottamento sull'incerto proporzionale non poteva considerarsi tale. E, a liste praticamente chiuse, nonostante tutta l'accortezza e l'esperienza politica, maturata in decenni di militanza, per il coordinatore è impossibile trattenere il disappunto per lo schiaffo appena subito. Ed ecco dunque il durissimo commento postato sui social. Dopo lo puntini puntini che hanno fatto per la scelta delle candidature in Molise, ho rinunciato a candidarmi, in polemica anche con il mio partito. Il nostro territorio perde due rappresentanze parlamentari sicure a favore di personaggi esterni, che non rappresenteranno affatto tutti noi e le esigenze del nostro martoriato Molise. Spero e mi auguro il Sibilino a fondo che i cittadini elettori molisani sapranno scegliere bene. Non le ha mandate certo a dire, insomma. Leggendo queste righe si capisce che Di Sandro, alla partita delle politiche, non solo non scenderà in campo, ma non sarà neanche in panchina.